È bello essere tornati tutti insieme sul campo perché è quello che ci mancava di più, fare allenamento tutti insieme è una cosa nostra ed è sempre bello. Dopo questo stop così lungo devono essere bravi i preparatori, gli allenatori, ma anche noi essere bravi a sentire i nostri muscoli, sentire il nostro corpo e adeguarci a loro perché due mesi in casa sono stati parecchi quindi ci vuole tempo e tempo ne abbiamo perché il campionato ricomincia al 21 quindi i presupposti sono buoni, stiamo lavorando molto bene e non vediamo l'ora di scendere in campo il 21. L'ultima partita è stata a porte chiuse e devo dire che è stata veramente brutta perché quando entri in campo anche per il riscaldamento, che senti il boato, che tutti i tifosi ti accolgono, lì non senti nessuno, è davvero una bruttissima sensazione. Spero che le cose migliorino e che magari qualche partita riusciremo a farla davanti ai nostri tifosi però ad ora non è così quindi dovremo essere pronti a giocare senza i tifosi purtroppo. Giocare in trasferta senza i tifosi magari ci può dare qualche piccolo vantaggio però è la stessa cosa quando giochiamo in casa che il vantaggio ce l'hanno la squadra avversaria quindi dobbiamo pensare solo a noi stessi e sapere che davanti alla TV avremo tantissimi tifosi. Io a Napoli giocavo le coppe quindi si giocava ogni tre giorni e devo dire che è un altro sport perché viaggi sempre, non sei mai a casa, hai pochissimo tempo per allenarti e quindi l'allenamento, quel poco allenamento che fai diventa fondamentale devi recuperare bene da una partita all'altra è difficile, è molto difficile però ci stiamo preparando bene. Anch'io ho avuto il Covid quindi so cosa si prova e per fortuna non ho avuto niente a differenza magari di altre persone che sono state male mi ha lasciato poco, più che altro guardiamo avanti tra qualche settimana torneremo a Bergamo contro l'Atalanta ogni volta che adesso penso a quella città che è stata la mia città dove sono cresciuto ai miei genitori dove vivono tuttora penso sempre a quell'immagine delle bare, dei militari che portano le bare quindi è una sensazione bruttissima però li conosco loro, sono forti quindi sapranno uscire da questo bruttissimo momento da questo ricordo così brutto c'è una salvezza da conquistare, siamo ancora in una zona rossa però ci stiamo allenando bene anche se in campo non avremo il loro supporto l'avremo comunque nella nostra testa perché sappiamo che loro ci stanno sempre a fianco